cari amici telespettatori purtroppo siamo qui per commentare l'uscita definitiva dell'italia dal mondiale ad opera di una macedonia che secondo me non è irresistibile la squadra ha sprecato troppo anche ieri sera si sono visti i cali evidenti della formazione di mancini già evidenziati in passato e questo non è giusto questa cosa è vergognosa lo dico da italiano e da tifoso dell'italia non ce lo meritavamo perché comunque eravamo sempre stati i primi e avevamo fatto anche ottime partite all'inizio ma poi abbiamo sprecato tutto le occasioni ci sono state ma come sempre ancora una volta è successo come accadde cinque anni fa non abbiamo giustificazioni perché la squadra era comunque giovane secondo me si vuole un rinnovamento totale a partire dal commissario tecnico stesso staff e molto altro detto questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video grazie grazie grazie